buongiorno signore e signori ragazzi e ragazze oggi voglio presentarvi onda nc 750 x del 2021 nel 2021 perché onda ha sempre sviluppato questa questa moto fino ad arrivare appunto in quest'anno a quest'anno scusate a 58,6 cavalli quindi questo continuo sviluppo una potenza direi più che buona a 6.750 giri al minuto con una coppia massima di 69 newton metro 4.750 giri ciò non toglie però quindi con questa buona potenza che i consumi si attestino intorno ai 28,3 chilometri al litro nel ciclo medio l'acceleratore elettronico quindi per vediamo alcune parti della moto che possono essere appunto interessanti perché la moto è molto evoluta e quindi ha appunto caratteristiche particolari e in particolare l'acceleratore elettronico offre quattro riding mode di cui tre predefiniti che sono lo standard lo sport e il rain mentre uno è personalizzabile si chiama user utente insomma per l'utente per i modelli poi dotati di doppia frizione quindi di cambio automatico la mappatura personalizzabile consente di impostare liberamente il cambio della marcia vi è anche poi il controllo di tazione denominato hstc onda selectable torque contro che offre tre livelli di intervento per quanto riguarda il telaio una struttura in tubi di acciaio con schema a diamante e vi è molto spazio per il vano porta oggetti grazie anche al posizionamento della batteria al nuovo posizionamento e al nuovo design dell'airbox il peso con il pieno è di 214 kg per la versione con cambio manuale mentre di 224 kg per la versione con cambio dct la forcella della showa qui si vede bene con steli da 41 mm è dotato del sistema dual bending vable per migliorare la qualità di guida e il comfort il freno disco anteriore eccolo qui che si bella evidenza di 320 mm con pinza doppio pistoncino mentre il freno posteriore a un disco da 240 mm e pinza a pistoncino singolo cerchi anteriore e posteriori in lega di alluminio molto belli vedete da 17 pollici entrambi con l'anteriore da 3,5 pollici e il posteriore da 4,5 pollici quindi misure direi piuttosto standard per questa stradale che offre tra l'altro vedete anche grazie a questo bel cupolino di riparo e anche la carenatura quindi un comfort di guida che permette appunto di utilizzarla in vari frangenti quindi una moto senz'altro moderna con tutti gli accorgimenti tecnologici del caso che offre anche un buon livello di riparo e quindi può essere usata sicuramente in diversi contesti tra cui anche naturalmente la città il peso non è eccessivo diciamo che il peso è adeguato alla struttura e alle caratteristiche della moto bene quindi se vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like se non vi è piaciuto dislike iscrivetevi al canale ma attivate anche la campanella per essere sempre aggiornati qui sotto con i vostri commenti sempre molto molto crediti ciao buona serata